I campionati regionali sono ripartiti, le 28 squadre pugliesi tra Serie C regionale e D hanno giocato nel weekend della prima giornata della stagione 2014-2015. In Serie C regionale è stato subito derby per le due baresi, al palla Balestrazzi ha vinto l'Adria Bari sull'Angiulli. L'analisi sulla gara dà la voce dei due protagonisti. La partita è andata abbastanza male, abbiamo giocato male in attacco, le percentuali sono state molto basse, abbiamo sbagliato tutti. Dobbiamo migliorare in quello perché in difesa abbiamo lasciato molte volte a Banese che è il loro tiratore migliore da solo, però comunque hanno fatto 61 punti, 61 punti non sono tantissimi e dovevamo migliorare noi in attacco. Prima partita sempre piena di insidie perché comunque eravamo un gruppo nuovo, completamente nuovo, quindi il derby poi è sempre una partita particolare. All'inizio c'è stato punteggio basso, eravamo tutti e due, un po' di emozione avevamo, quindi le percentuali non erano molto alte. Poi fortunatamente abbiamo fatto un primo strappo nel secondo quarto, siamo andati a più 20 nel terzo e poi abbiamo condotto fino al termine della partita.